ciao a tutti oggi andremo ad analizzare il contenuto della confezione di questa dashcam telecamera per la registrazione in automobile marca viofo a119 che dovrebbe essere l'ultimo modello di questa casa produttrice che può registrare video in hd fino a 60 frame per secondo ha un angolo di visione di 160 gradi e un display da due pollici un sistema di tracciamento gps una memoria interna una memoria esterna da 32 giga molto interessante prodotta e spedita dalla cina tra l'altro in tempi molto brevi ad un costo di circa un po più di 100 euro diciamo il kit comprensivo di hardware per il montaggio modulo gps ed anche un cavo di alimentazione speciale da collegare alla batteria dell'automobile per un'installazione non sotto chiave quindi per poter accenderla e spegnerla manualmente anche a macchina spenta servirà andare a collegare l'alimentatore ad una fonte di energia che non sia gestita dalla chiave di accensione e questo dispositivo è un optional che io ho acquistato per testarlo siamo nell'officina di touch.it dove potete vedere sembra essere esplosia una bomba in questa officina io e i miei nipoti costruiamo le auto da corsa con le quali corriamo e come promesso sono arrivate le dash camera e oggi tenterò di fare una video recensione per questa video recensione mi sono inventato un supporto magnetico da collegare ad un cavalletto cinese e allegherò le foto perché possiate farvi quattro risate come vedete ho ordinato due kit ora ne apriremo uno dopo aver apportato alcune importanti modifiche al setup del cavalletto partiamo con la pseudo video recensione di questa simpaticissima telecamerina per il cruscotto dell'auto in questo caso ne ho ordinate due complete di una memory card che poi vedremo e un kit di collegamento diretto all'impianto elettrico dell'auto non so se la utilizzerò però mi interessava vedere come era fatto quindi c'è un cablaggio più e meno con fusibile quello che pare essere un alimentatore esatto è un alimentatore probabilmente stabilizzato vi saprò dire verificheremo con un attacco usb compatibile con il dispositivo questo cablaggio può essere collegato direttamente al più 12 volt dell'auto per poter avere un utilizzo on off deciso dall'utente e non con il più sotto chiave che quindi comporta lo spegnimento del dispositivo quando si spegne l'auto la confezione si presenta bene appena l'apriamo c'è il dispositivo un manuale di istruzioni e una serie di accessori che ora andremo a vedere cerchiamo di capire di cosa si tratta allora il dispositivo direi che possiamo visionarlo successivamente abbiamo un cavo usb con una discreta lunghezza poi nella recensione cercherò di essere più dettagliato e di aggiungere le misure abbiamo un adattatore per la presa dell'accendisigari con due ingressi usb per la ricarica quindi potremo collegare il nostro dispositivo e mantenere una usb attiva disponibile per una ricarica di un cellulare ad esempio questo è il modulo gps che ho ordinato assieme al dispositivo infatti il dispositivo la dash cam si può ordinare sia con che senza il modulo gps io ritengo che il modulo gps in una dash cam sia essenziale soprattutto in caso di incidente per poter utilizzare i dati sulla posizione e la velocità anche a propria discolpa allora ok abbiamo un ulteriore cavo usb più corto presumibilmente quello che serve per scaricare i video dalla memoria del dispositivo quando lo si smonta dall'auto una serie di ganci per poter fissare il cavo usb all'interno dell'abitacolo oserei dire esternamente o comunque per poterlo fissare al telaio o al vetro facendo il giro della cornice dell'unotto abbiamo un adesivo 3m di scorta probabilmente per un riposizionamento e la basetta la basetta principale è quella che si utilizza per collegare il dispositivo all'unotto senza l'utilizzo di un modulo gps come vedete mentre se si utilizza il modulo gps è il modulo gps stesso ad essere incollato al vetro e successivamente la dash cam inserita sul modulo gps in questo modo avviene già il collegamento tramite i pin del modulo gps si alimenta tutto tramite l'ingresso usb del modulo gps che trasmette i dati e l'alimentazione alla dash cam la dash cam ha un'ottica che può essere inclinata su due assi per adattarsi al posizionamento dell'unotto si presenta bene è abbastanza solida quella che mi hanno spedito viene fornita con una memoria trascendere da 32 giga qui abbiamo il microfono i testi di comando accensione menu il tasto per taggare i video manualmente eccoci siamo in auto ho installato la dash cam come vedete ho scelto di installarla in una posizione centrale rispetto al cruscotto con una soggettiva molto simile a quella del guidatore in quanto l'angolo di visione molto ampio se non ricordo male 170 gradi che poi vi confermerò successivamente determina il fatto che la telecamera per avere una visuale senza impedimenti quindi è opportuno non installarla troppo vicina allo specchietto retrovisore in quanto questa parte ad esempio del mio cruscotto del mio lunotto in cui ci sono dei sensori per la pioggia va ad oscurare il campo di visione veramente diventa molto evidente adesso io provo ad avvicinare una mano alla telecamera e come vedete le mie dita disturbano l'obiettivo quindi ho fatto questa scelta penso di avere scelto bene ho fatto tutta una serie di valutazioni ad esempio ho messo la telecamera in una posizione in cui se abbasso la tendina il parasole diventa pressoché invisibile però resta comoda da richiamare ad esempio in caso di necessità per fare una registrazione per taggare un video rapidamente posso farlo senza anche se sono da solo in auto senza rischiare di togliere l'attenzione e la guida ho utilizzato una serie di attrezzi in particolar modo ho utilizzato questo di un kit di iFixit per inserire il cavo usb in dotazione tra il lunotto che vedete qui il lunotto e il cielo della vettura che ha un intercapedine vedete è un intercapedine che non è incollata non ci sono mastici anche perché il cielo sporge rispetto al telaio della macchina per andare a coprire la linea di giunzione del lunotto alla scocca quindi qua sotto ci sarebbe il mastice brutto da vedersi il cielo della macchina va a coprirlo e qui si crea una zona che non è attaccata non è incollata quindi io non ho fatto altro che prendere il nostro bel cavetto usb e nasconderlo pian piano sotto la moquette fare il giro lato passeggero scendendo dal montante perdonate la pessima qualità delle immagini ma io non ci capisco proprio nulla di video quindi ho disteso il cavo lungo tutta la linea del cielo e della copertura del montante e più o meno all'altezza del cruscotto ho fatto un dietro front sempre nascondendolo lì sotto non c'è problema poi scendendo sotto al cruscotto lato sportello dove il cruscotto termina anche lì c'è una guarnizione o comunque generalmente moquette si può tranquillamente inserire il cavo all'interno senza sforzi senza fare danni e da lì ho trovato un piccolo accesso sul lato dell'apertura dello sportello dei documenti il cavo è entrato l'ho posizionato laggiù in fondo dove non si vede dietro alcune plastiche l'ho fatto uscire da qui e per adesso mi accontento di questo posizionamento ma sono convinto di poter far passare il cavo all'interno di questa parattia e farlo uscire o da qui sotto oppure mi inventerò qualcosa ma penso che non sarà troppo difficile tra l'altro la prossima settimana sarò in carrozzeria da un amico carrozzeria molto abile chiederò conferma e poi in un momento di tranquillità cercherò di nascondere ulteriormente il cavetto a me piace che non si vedano cavi l'unico cavo che si vede all'interno della mia macchina è quello dell'interfaccia di collegamento dell'iPhone che utilizzo in questa posizione ed è l'unico cavo che accetto di vedere nel mio cruscotto in ogni caso il cavo usb della dash cam arriva alla presa dell'accendisigari che io non utilizzavo infatti era chiuso da questo tappo però ora sarà così e avremo la possibilità di un ulteriore di poter collegare un ulteriore dispositivo usb al cruscotto che non fa mai male questo tappo lo metteremo qua dentro e niente sembra funzionare tutto come vedete oggi domani nei prossimi giorni farò qualche viaggio di prova cambiando il setup la bella notizia è che il menu ora vedete un'immagine di colore blu astro non semplicemente perché sopra il display e sopra l'ottica della telecamera della dash cam c'è una pellicola protettiva azzurrata quindi la qualità è deteriorata anche da quella pellicola in realtà l'immagine è molto migliore e lo vedrete poi nei test se premo menu adesso sta registrando perché avevo premuto il pulsante di emergenza quindi penso si faccia così per interrompere sta ancora registrando questo sappiate che non ho letto il manuale di istruzioni quindi quello che faccio lo faccio inconsapevolmente si sta registrando per emergenza ok come vedete il menu ha un'interfaccia in italiano basta selezionarla mi sembra bello completo motion detection GPS sensori G si può tarare la sensibilità queste sono delle funzioni che poi studierò dal manuale stampa la data registrazione audio l'oggetto sembra molto interessante quindi vedremo poi la qualità delle registrazioni e prerremo le conclusioni alla fine siamo a bordo della Panda Panda Cross vi faccio vedere che ho installato il dashcam sulla destra dello specchietto retrovisore anche qui sono riuscito a far passare il il filo il cavo usb tra il il vetro e il cielo del tetto quindi il risultato è ottimo perché come potrete notare non si vede assolutamente il cavo usb non ho dovuto utilizzare nessun tipo di adesivo è semplicemente stato inserito in questo intercapedine scendendo fino là poi tornando indietro qui scendendo giù per il cruscotto poi dentro al vano dei documenti in questo caso qui vedete come nell'altra macchina c'è un cavo per l'interfaccia diciamo per mandare il segnale audio direttamente via cavo all'autoradio io è l'unico cavo che utilizzo lo uso anche per la ricarica ma nello specifico per la nostra dashcam la presa dell'accendisigari è qui quindi il cavo usb sono riuscito a farlo passare attraverso le plastiche smontando semplicemente questo pannello con una unica vite a farlo passare qua sotto poi sotto a questo elemento del tunnel centrale dove c'è il cambio che è di plastica morbida quindi si riesce scostandolo leggermente a far passare il filo esce qui e qui c'è la nostra bella presa accendisigari che si può togliere e mettere quando lo andiamo a inserire il dispositivo si accende probabilmente non lo vedrete perché c'è molto sole bene funziona perfettamente dovremmo solo fare un setup ciao a tutti